Come temevo, come temevamo, non ha fugato in nessuna maniera i nostri dubbi circa iniziative concrete da mettere in atto per fugare ogni dubbio riguardo la regolarità del voto. E non venga qui cortesemente, Ministro, anche per un rispetto all'intelligenza dei presenti, anche se sono pochi in quest'Aula, a ribaltare la situazione. Nessuno ha parlato di cittadini di serie B. Semplicemente abbiamo parlato di una cialtronagine di chi, incaricato di diffondere il plico elettorale in maniera puntuale, questa cosa non lo ha fatta. Quindi la invito, visto che non faceva parte dell'interrogazione, ma la aggiungo in sede di replica, la invito a verificare, qualora ci siano stati dei casi di errori, a verificare chi è stato il responsabile all'interno della sua struttura. Perché se non è in grado neanche di gestire una struttura che faccia arrivare in maniera puntuale un plico elettorale, c'è qualcosa che evidentemente non funziona nella gestione della farnesina da parte sua. Detto ciò, le posso garantire che vi sono casi certificati di errori macroscopici e non può cortesemente anche qui offendere l'intelligenza degli interroganti dicendo che è un errore della tipografia. Perché non mi risulta che siano le tipografie a cui voi vi affidate a spedire i plichi elettorali, ma mi risulta che siano i consolati, le ambasciate e quant'altro fa parte appunto della struttura della farnesina. Quindi non venga qui a raccontarci balle, ma cortesemente torni qui la prossima volta a dirci effettivamente che cosa avete intenzione di fare per evitare dei brogli. Perché non è un problema di risultato elettorale, le posso garantire che il risultato per noi non è incerto, è certissimo che vincerà il no. Ma proprio per garantire quella dignità che lei ha cercato di ribaltare su di noi, della questione dei cittadini di serie A o di serie B, bisogna che non ci sia nessun tipo di dubbio sulla regolarità del voto. Voi questo non siete in grado di farlo.